Ma ti sei mai chiesto quanto è raro il tuo segno dello Zodiaco? Per rarità si intende quante persone hanno il tuo stesso segno. Il segno più comune di tutti è Vergine. A seguire c'è il Leone. Decimo posto se lo aggiudica il Cancro. Seguito da Sagittario. Ottavo posto Bilancia. Settima posizione Gemelli. Subito dopo Scorpione. Quinto posto Pesci. Quarta posizione Toro. Sul gradino più basso del podio troviamo Lariete. Al secondo posto il segno dell'acquario. Ma il segno più raro di tutti è il Capricorno.